A questa realtà occorre reagire, non lasciarsi prendere da scoramenti o da sensazioni di impotenza, bisogna che si acquisti maggiore coscienza che a questa aggressione è necessaria una reazione di tutta la realtà sociale, è necessaria una reazione che isoli la violenza, ogni forma di violenza ed è necessario ricostituire nel tessuto sociale quei valori che sono a base di una convivenza che possa essere accettata e accettabile da tutti. Pier Santi Mattarella, nasce a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, il 24 maggio 1935. È primo di quattro figli. Suo padre Bernardo, esponente di primo piano dell'azione cattolica, è un militante del Partito Popolare. Stretto collaboratore di De Gasperi e poi di Aldo Moro, Bernardo è più volte ministro. L'attività di governo, spinge Bernardo a trasferire la famiglia a Roma. Pier Santi frequenta il liceo cattolico romano, all'interno del quale, guida il gruppo di azione cattolica. Nonostante gli impegni romani, Pier Santi ha il cuore in Sicilia. All'inizio del 1958, si fidanza con Irma Chiazzese, figlia del rettore dell'Università di Palermo. Pochi mesi dopo, il 25 ottobre dello stesso anno, i due si sposano nel capoluogo siciliano. Nel 1959 nasce il primo figlio, Bernardo, nel 1960, la figlia Maria. È una famiglia molto unita e felice. Agli inizi degli anni Sessanta, la democrazia cristiana, vive un ricambio generazionale. È il momento di Fanfani e Moro. È naturale, per Pier Santi Mattarella, entrare nella corrente di Aldo Moro. L'impegno politico di Pier Santi, comincia un po' in sordina, nel 1964, quando viene eletto nel Consiglio Comunale di Palermo. Tre anni dopo, nel 1967, l'elezione all'Assemblea regionale siciliana. Si occupa immediatamente della riforma della burocrazia, disegnando un'amministrazione moderna, al passo coi tempi. Convinto della necessità di allargare il consenso democratico, si batte per il mantenimento, in Sicilia, dell'alleanza strategica con i socialisti. Anche quando, il centrosinistra, entra in crisi a livello nazionale. I congressi nazionali del nostro partito, fino all'ultimo congresso, hanno sancito la politica del centrosinistra, che nessun organo nazionale del partito ha dichiarato una opposizione al centrosinistra. Ma la politica siciliana, è un mondo difficile. La democrazia cristiana locale è divisa in potentati, e dominata dai signori delle tessere. Ci sono esponenti, come Vito Ciancimino, in forte odore di mafia. Pier Santi Mattarella, si tiene fuori dai giochi di potere e dai comitati d'affari. Preferisce riunire giovani intellettuali, economisti e sociologi, uomini di cultura nel suo circolo, gruppo politica. Ripete che, per il cristiano non è mai possibile scindere l'azione politica dalla morale. Nel 1971, gli viene affidato l'assessorato al bilancio. Un di Castero, non dotato di capacità di spesa, e dunque considerato di serie B. L'assessorato al bilancio nelle mani di Mattarella, diventa invece un vero e proprio laboratorio politico per il rinnovamento dell'isola. Pier Santi, ha un'idea forte per lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia. Elabora riforme, progetti, innovazioni. Chiede investimenti produttivi e non assistenziali. Il problema Sicilia è la emblematizzazione della complessità e della gravità della situazione economica e sociale della nostra isola, che paga in ritardo rispetto ad altre regioni un prezzo pesante della crisi economica del paese. Tendeva a far quadrare i conti, tendeva a pareggiare il bilancio, ma contemporaneamente tagliare le spese improduttive. Insomma, era tutta una regione che si doveva presentare, come diceva lui, con le carte in regola, con i conti in ordine. La politica delle carte in regola è la frase manifesto di Pier Santi Mattarella. Un principio che stravolge i costumi politici palermitani. Pier Santi coniuga le istanze democratiche e cattoliche e, per la prima volta, apri ai comunisti. A livello nazionale si pensa che sia arrivato il momento di un incontro nell'area di governo delle grandi forze popolari, la DC e il PC, artefici di questa politica a livello nazionale Aldomoro. Mattarella, che è un suo discepolo, la attua a livello regionale. All'inizio del 1978, nel momento in cui il Partito Comunista si mostra disponibile ad entrare nella maggioranza in assemblea regionale, Pier Santi Mattarella è il candidato naturale per la presidenza. A 42 anni, è il delfino di Aldomoro, l'uomo nuovo della democrazia cristiana. È il 20 marzo 1978, e la regione Sicilia vive una svolta storica. Mattarella riesce a formare una giunta composta da democristiani, socialisti, repubblicani e socialdemocratici, con l'appoggio esterno del Partito Comunista. I maggiorenti della DC pensavano che fosse una candidatura di transizione, in realtà invece Mattarella prende santamente il suo ruolo di presidente e fa il presidente governando e riformando la regione. Un giorno Pier Santi mi venne a trovare nel mio ufficio portando lui delle carte e mi disse Luca studia e dimmi come pensi tu tecnicamente che bisogna comportarsi. E io disse a Pier Santi qual è la conclusione alle quali devo arrivare? A Pier Santi lancio in aria le carte, mi disse tu devi dirmi quello che professionalmente pensi che debba fare, poi io politicamente decido il contrario firmando un atto diverso da quello che tu mi hai proposto. Tu assumi le tue responsabilità, io mi assumo le mie responsabilità. Una lezione straordinaria, l'insegnamento del primato della politica. Pier Santi Mattarella, ha appena cominciato a lavorare, anche se ancora non si è insediato. Quando tutto cambia. È il 16 marzo 1978. Aldo Moro nelle mani di un commando delle Brigate Rosse. Mi precipitai per condividere lo sbandamento, la preoccupazione, la paura di questo episodio aveva prodotto in tutta Italia. E gli dissi, ho paura che per il nostro presidente sia finito. E lui mi disse, mi sbigliando, anche per me è finito. Il 9 maggio, il corpo di Aldo Moro, viene rinvenuto in via Caetani. Pier Santi Mattarella, è uno dei primi ad accorrere sul posto. Incredulo e smarrito, come tutti gli italiani. Sa che la morte di Moro, indebolisce la sua prospettiva di unità regionale in Sicilia, ma ormai non può più tornare indietro. A metà del 1978, entra nel vivo il percorso di rinnovamento, che parte dagli appalti edilizie e da un nuovo piano urbanistico. Pier Santi riteneva che, se si cambiavano i meccanismi burocratici, di lentezza estrema, e si dava alla regione un profilo di efficienza, di funzionalità, di rigore nei conti, allora la mafia sarebbe stata sconfitta. Introduce la novità di attribuire ai costruttori, quegli oneri di urbanizzazione, che invece prima pesavano sugli enti pubblici. E questo consentì di eliminare una serie di abusi. Riduce gli indici di fabbricabilità nelle aree agricole. Questo, costituisce un vero colpo agli interessi mafiosi. Introduce le ispezioni e i controlli, disposti ai collaudatori delle opere pubbliche e sugli appalti. Un giorno è andato da Pier Santi un ispettore, molto bravo e serio, Mignosi, incaricato di un'ispezione sull'appalto di alcune scuole di Palermo. Per dirgli, Presidente, se le vuole io continuo, ciodora di mafia, rischio di finire nel cemento. Pier Santi gli riposa, andiamo avanti, nel cemento eventualmente ci finiamo entrambi. Nel 1979, il Partito Comunista decide di ritirare l'accordo con la democrazia cristiana e di conseguenza, in Sicilia, il governo Mattarella perde il sostegno dei comunisti. Mattarella passa indenne da questa crisi politica ed è stato riconfermato alla guida di un nuovo governo regionale. A Palermo, Cosa Nostra, ha aperto la stagione dei delitti eccellenti. Dopo Mario Francese, giornalista di Il Giornale di Sicilia, ucciso il 26 gennaio, il 9 marzo, viene assassinato Michele Reina, segretario provinciale della democrazia cristiana. Oggi ci ritroviamo qui, perché nella nostra città, nella nostra regione, è stato consumato un'aggressione barbara, vile, crudele. Violenza che finisce con l'avere lo stesso obiettivo, l'obiettivo di scoraggiamento, l'obiettivo di non partecipazione, l'obiettivo di cercare di estragliarsi da quella che è la vita pubblica. Pier Santi Mattarella, è consapevole che il suo impegno antimafia, lo sta isolando all'interno del suo stesso partito, dominato in Sicilia da Salvo Lima e Vito Ciancimino. La mafia, intanto, a luglio uccide il poliziotto Boris Giuliano e a settembre il giudice Cesare Terranova. I corleonesi hanno dichiarato guerra allo Stato. In quel periodo, Santi Mattarella era molto preoccupato del ritorno di Vito Ciancimino all'interno della DC siciliana. Mi andò a parlare con l'allora ministro dell'interno, Rognoni, ma evidentemente tornò piuttosto insoddisfatto. Io sono convintissimo che papà, soprattutto nell'ultimo mese, fosse consapevole di correre gravissimi rischi per la sua persona. E credo che proprio anche nell'ultimo mese alcune abitudini fossero cambiate proprio in considerazione di questa sua preoccupazione. che però non aveva mai manifestato. Anche dagli atti dell'inchiesta si evince che in alcuni casi lui si era preoccupato di lasciare qualche traccia con i suoi collaboratori raccomandando sempre che non ne fosse fatta parola né con mamma né con noi e neanche con Sergio. Pier Santi voleva che la questione Sicilia fosse portata a livello nazionale. Invita il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, in Sicilia. Pertini accettò e capì l'azione di rinnovamento di Mattarella e ne diede pieno appoggio. Abbiamo ancora dinanzi a noi ostacoli e resistenze notevoli e non ce ne nascondiamo il peso. Primo fra tutti la recrudescenza del fenomeno della massa, che seppure con caratteristiche diverse dal passato e oggi assai simili a quelle comuni ai fenomeni di delinquenza presenti nelle società sviluppate, si ripresenta con tracotanza in questi mesi a turbare lo scorrere ordinato della nostra vita civile. Quello di Pier Santi Mattarella è un discorso storico, un proclama contro la mafia, una testimonianza che ha già il sapore di un testamento. Zaccagnini, forse anche consapevole dei rischi che Pier Santi poteva correre in Sicilia, gli propose la candidatura alle elezioni politiche. Mattarella rifiutò, poiché gli disse che doveva finire il suo compito in Sicilia da Presidente della Regione. A dicembre del 1979 i familiari notano un forte cambiamento di umore da parte di Pier Santi, non è più allegro, gioviale come al solito, è molto preoccupato. Addirittura le foto al diciottesimo anno, al compleanno della figlia, alla festa, lo mostrano corrucciato, scuro in volto. È la mattina di domenica 6 gennaio 1980. Via della Libertà a Palermo. Pier Santi Mattarella, è alla guida della propria Fiat 132. Si sta recando a messa, insieme alla moglie, la suocera e la figlia Maria. Un sicario si avvicina all'automobile e lo uccide con colpi di pistola, attraverso il finestrino. Dopo i primi colpi, la pistola si inceppa, ed il killer raggiunge un complice e cambia pistola. Torna indietro ed esplode altri colpi, che feriranno ad una mano la moglie del presidente, la quale cercava di proteggere il marito. Indignazione e sgomento a Palermo in tutta la Sicilia, ma più ancora sincero dolore per l'atroce delitto. Mattarella era stimata e molto popolare. Nel mortale agguato è rimasta liviamente ferita alle mani anche la moglie del presidente della regione, signora Irma, nel tentativo di proteggere il marito dai colpi del sicario. Tre desse colpi sparati da un uomo dell'apparente età di 40 anni hanno raggiunto la vittima al capo e sono stati mortali. Il presidente della DC, Piccoli e il vice segretario Gullotti, accompagnati dal ministro Ruffini, sono giunti da Roma per recare l'omaggio del partito alla Samba. Viene estratto dalla macchina dal fratello Sergio, chiamato dal figlio di Piersanti. Questa rimarrà la foto simbolo dell'assassinio di Piersanti Mattarella. Palermo si ritrova a piangere Piersanti Mattarella, il presidente della regione. Ali di folla vengono a salutarlo il giorno dei funerali. Ed anche il cardinale Pappalardo fa sentire la sua voce. Perché è stato ucciso Piersanti Mattarella? Una cosa sembra emergere sicura, ed è l'impossibilità che il delitto sia attribuibile a sola matrice mafiosa. Ci devono essere anche altre forze occulte, esterne agli ambienti, purtanto agitati della nostra isola. Palermo e la Sicilia non possono accettare o subire l'onta di essere l'ambiente in cui ha maturato l'atroce assassino. Quest'uomo era veramente un galantuomo, un uomo giusto e coraggioso, come ha scritto il presidente Pertini. Mattarella è stato definito un uomo onesto, limpido, educato, di altissima levatura morale, al di sopra di ogni sospetto e meritevole di incondizionato elogio. Palermo risponde con sdegno. E già il 7 gennaio, migliaia di persone si riversano in piazza Politeama per ricordare il presidente e dire no alla violenza mafiosa. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno. Il 7 gennaio, migliaia di persone si risponde con sdegno.